Qui a Saia 2012 questo prototipo di casa energeticamente efficiente che produce più energia di quella che consuma? Sì, assolutamente, è una casa che grazie al fotovoltaico ne ha molto, quindi produce più energia, però non solo grazie a questo, ma soprattutto grazie al fatto che è una casa che consuma molto poco. Ha un grandissimo spessore isolante e quindi grazie a questo grande spessore isolante riusciamo a contenere tutta quella che è l'onda termica esterna sia in estate che in inverno. In più noi abbiamo ideato uno strato di massa inerziale, in questo caso abbiamo messo della sabbia contenuta dentro contenitori di alluminio, ma comunque potremmo mettere qualsiasi altro materiale, ghiaia, petrisco, laterizio, detriti da demolizioni, che è in grado di raccogliere il calore, trattenerlo nella sua massa e rilasciarlo poi di notte. Di notte in estate aprendo le finestre il calore esce fuori, di notte in inverno resta dentro e abbiamo un radiatore passivo, come lo chiamiamo noi. Questo progetto è stato anche premiato al Solar Decathlon 2012? Sì, progetto che ha avuto un grandissimo successo al Solar Decathlon 2012, prima presenza italiana in una competizione per università di tutto il mondo che esiste dal 2000 e quindi è una grande soddisfazione per l'Italia, secondo me, entrare in questa competizione per la prima volta e riportare come successo non solo la presenza che era già importante, ma anche il terzo posto assoluto, il primo posto alla gara di sostenibilità e tanti altri premi. E ora, al di là del prototipo, si può pensare ad una diffusione reale di questo tipo di abitazione? Assolutamente, sì. Stiamo già cominciando a discuterne con i nostri sponsor in maniera tale da poter proseguire nella ricerca che porta questo edificio a diventare pluripiano, quindi ad adattarsi meglio alla cittadenza della nostra urbanistica europea e in maniera tale da poterci proporre per qualsiasi tipo di soluzione, dall'housing sociale al post emergenza, al post calamità naturali, ma anche a un'edilizia privata anche di livello alto, perché comunque la casa è concepita per poi potersi configurare rispetto alle esigenze dell'utente, sia in dimensioni, qui oggi vediamo una soluzione piccola di 60 metri quadri, determinati dal concorso, però possiamo tranquillamente ampliarla per famiglie più grandi o per esigenze diverse e al contempo mettere finiture sia esterne che interne di tutti i tipi. La finitura che vedete all'esterno è il tessuto di lino con cui ancora oggi vengono fatte le vele dell'Americo Vespucci, quindi assolutamente testato per esistere alle intemperie, perché insomma più di una vela non so cosa ci sia, detto questo però è una provocazione da competizione, da expo e poi la casa per inserirsi a livello urbano può avere qualsiasi tipo di finitura esterna. I costi di una casa così sono elevati? No, i costi non sono elevatissimi perché noi ci siamo attestati su 1.400 euro metro quadrato, il che significa una soluzione abbordabile considerando anche che la bolletta è zero.